Siamo all'asilo e qui stiamo preparando le feste per la chiusura dell'anno a giugno. Siamo all'asilo e qui stiamo preparando le feste per la chiusura dell'anno. Siamo all'asilo e qui stiamo preparando le feste per la chiusura dell'anno. Siamo all'asilo e qui stiamo preparando le feste per la chiusura dell'anno. Siamo all'asilo e qui stiamo preparando le feste per la chiusura. Siamo all'asilo e qui stiamo preparando le feste per la chiusura. Siamo all'asilo e qui stiamo preparando le feste per la chiusura. Siamo all'asilo e qui stiamo preparando le feste per la chiusura. Siamo all'asilo e qui stiamo preparando le feste per la chiusura. Siamo all'asilo e qui stiamo preparando le feste per la chiusura. Siamo all'asilo e qui stiamo preparando le feste per la chiusura. Siamo all'asilo e qui stiamo preparando le feste per la chiusura. Siamo all'asilo e qui stiamo preparando le feste per la chiusura. Siamo all'asilo e qui stiamo preparando le feste per la chiusura. Siamo all'asilo e qui stiamo preparando le feste per la chiusura. Siamo all'asilo e qui stiamo preparando le feste per la chiusura.